Da sabato 11 maggio, su TSN, le opere cinematografiche de La Luce da Levante. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 12, sui canali 172 di Tele Sondrio News e 186 di TSN Lecco. Non perdere le meraviglie de La Luce da Levante. Se vuoi sapere di più, non esitare a contattarci al 389 576 93 88. Oppure sul sito internet www.kingdomsalvation.org.it